Facciamoci spazio, la campagna cittadina lanciata dagli attivisti e attiviste del Laboratorio Paz Project continua. Il leitmotiv che anima il progetto è quello di rivendicare l'utilizzo di luoghi abbandonati, sottrarli al degrado e restituirli alla collettività affinché possano divenire importanti strumenti per costruire un'alternativa reale all'attuale modello di società. Nelle ultime settimane la cronaca si è spesso occupata di episodi anche tragici che riportano alla necessità di riqualificare spazi lasciati all'incuria e abbandonati attraverso progettualità sociali e culturali che nascano dal basso. Episodi come quello di Bari, relativo al bambino di 10 anni che ha perso la vita giocando all'interno di uno di questi o quelli più vicini territorialmente come quello dell'ex pastificio Chigi di Morciano, del capannone di via Italoflori o i fatti accaduti all'ex macello sono lì a ricordarlo. Da alcuni mesi che stiamo chiedendo e rivendicando un utilizzo degli spazi abbandonati per costruirci dentro percorsi e progettualità che li facciano tornare ad essere spazi produttivi da un punto di vista sociale e culturale ma non solo perché appunto ex aree produttive in un tempo come questo, in una fase storica politica come questa possono tornare ad essere anche appunto magari luoghi di produzione in un'ottica di una produzione solidale, cooperativa. L'appello cui hanno aderito già nomi importanti del mondo artistico, culturale e di promozione sociale riminese vuole sollecitare l'amministrazione comunale rispetto all'assegnazione di uno spazio come riconoscimento del valore rappresentato dall'esperienza oramai decennale del laboratorio Paz Project.